Congressi provinciali dal risultato dolce amaro, senza sorprese quello del PDC svoltosi a Reggio, dall'hotel Stella Maris di Palmi per future libertà arriva invece il sorpresone che non t'aspetti. Gli esiti del primo congresso provinciale di FLI, celebrato dal deputato e membro della commissione parlamentare antimafia Fabio Granata, parlano chiaro? Non sarà il fin cui coordinatore finiano Cosimo Caridi, ma l'ex sindaco e oggi capogruppo FLI al comune di Ardore, Franco Romeo, a guidare il partito. Per 81 suffragi a 61 ha sconfitto l'ex presidente dell'Accademia di Belle Arti, al quale non ha giovato una dote di 700 iscrizioni, fin qui guadagnate al partito. Esito congressuale a dir poco imprevisto, destinato a suscitare polemiche interne anche per il posizionamento accanto a Romeo, finora coordinatore della Ionica Regina per future libertà, del coordinatore finiano per Reggio Città ed ex candidato sinnaco di Reggio, Carlo Sbano. Tutta da scoprire l'opinione a riguardo della coordinatrice regionale del partito, Angela Napoli, che ancora ieri ha ribadito a chiare lettere che FLI non è nata come partito delle destre e non appoggia la giunta Scopelliti. Quanto ai comunisti italiani, assai più scontato l'epilogo del congresso con la rielezione dell'uscente Enzo Fasci a voti unanimi. Ma ci sono novità per il futuro. Il leader nazionale ed ex guardasigilli Oliviero Di Liberto identifica in scuola, fisco e lavoro le tre agili priorità in base alle quali chiede un'alleanza al PD. Non sarà la gioiosa macchina da guerra di un tempo, ma c'è un centrosinistra che vuole più sinistra.